Catalina Martinez Azumu, segretario di Stato della Guinea Equatoriale, rappresenta la Borsa del Turismo Sportivo e del Benessere Termale che si è tenuta all'Isola d'Elba lo scorso fine settimana, un'occasione per promuovere il suo territorio e per un gemellaggio con l'Isola d'Elba. Promozione turistica della sua terra che punta, come del resto, l'Elba sul turismo sostenibile. Durante il convegno si è discusso della sinergia fra i due luoghi e le azioni per uno scambio di promozione turistica. È un'opportunità bellissima perché dopo tutte le attività a livello di promozione turistica che stiamo facendo e in particolarità con l'Italia e l'Isola d'Elba con la Guinea Equatoriale si può creare delle sinergie perché anche la Guinea Equatoriale sta puntando sul turismo sostenibile, un turismo di qualità, un turismo di benessere e un turismo esportivo. Essere qua e poter parlare ancora della Guinea, far conoscere le potenzialità e le opportunità che le due, perché dopo anche la Guinea e la Capitale è una isola. Nella nostra geografia abbiamo quattro isole e quindi come l'Isola d'Elba conosciamo le particolarità delle isole, come arrivare, come dobbiamo rinforzare la promozione e le sinergie sono importanti per avere gli obiettivi. Quindi la Guinea Equatoriale è qua per anche imparare della isola d'Elba di quello che ci stanno facendo e noi che stiamo a prendere il turismo, che oggi abbiamo già firmato il contratto del visto online, quindi non è già un problema per arrivare in Guinea Equatoriale e scoprire tutte queste isole per, prima, il benessere in modo naturale perché abbiamo delle isole volcaniche, quindi abbiamo questa acqua che offre dei trattamenti di benessere naturale e dopo quelle che ha fatto il governo a livello di investimento con degli spa in tutto il paese. Abbiamo le stesse potenzialità e insieme possiamo fare tanto, offrire e diversificare a italiani e a quelli che anche non sono italiani un prodotto molto completo perché l'Isola d'Elba ha le sue caratteristiche e dopo la Guinea Equatoriale con la giungla e dopo è molto esotica, si può abbinare benissimo, è un prodotto molto completo, un prodotto molto attrattivo. In questi tempi, dopo il Covid, tutti abbiamo bisogno di nuove destinazioni, tutti abbiamo bisogno di nuovi prodotti, prodotti a offrire che siano interessanti, quindi Elba, Guinea Equatoriale, mi sembra che si vede molto bene.